Piero Armando, oggi una grande gara qua a Varese, un ottimo risultato in questa finale. Le vostre sensazioni? Cominciamo da te. Per essere la prima gara che facevamo assieme dopo questo raduno qui a Varese, per me è stata la prima di tante belle gare che potremmo fare assieme. Siamo stati sempre a contatto con gli altri due equipaggi molto forti che anche durante questa stagione hanno fatto già dei bei risultati. Sì, è un ottimo punto di inizio. Sì, mi rifaccio a quanto detto da Piero, è un ottimo punto di inizio sicuramente. È la nostra prima gara insieme, ci dobbiamo conoscere, abbiamo ancora alcune dinamiche da sbloccare. Gli altri due equipaggi, Francia e Granmedagna, oggi un pelo superiori, ma non troppo, ci hanno un po' staccato in partenza. Penso che abbiamo più margini di miglioramento per il mondiale rispetto agli altri. Allora partiamo da te, prospettive future? Finito questo, vedremo per la terza prova del Coppa del Mondo di Lucerna e poi un'eventuale convocazione per il mondiale under 23, in quanto io sono ancora giovani. Sì, spero che non mi lasci per troppo tempo, perché conto di lavorare su questa barca per raccogliere un grande risultato quest'anno. Benissimo, allora vi lasciamo alla cerimonia di premiazione e complimenti ancora ragazzi. Grazie, ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.